Giocare 26 uccisione Gucci, in quanto un'uccisione ha fatto la pipa No, no Ma vada che dà bravo Ora voi gli schiacci vedrete come si spara Dai, gli hai dato una pistola ma mi dai una riga Puttana la maestra Energia cinetica Segnate Aiuto Mi hanno preso per il loro spuntino Non li mette comunque Di Reagan Gli hai dato una Vabbè Gli hai dato una pistola a me di Reagan Preferivo l'altro mitra Boh Appena posso Oh dai Shut up Nascuna Nascuna Sì in effetti hai ragione Fuori dei maroni Sprecco un po' di punti Orsetto Orsetto Ci tenevo a Far spavare l'orsetto Perchè ero l'unico che doveva avere la Reagan Qui mi sembra perfetto Qui mi sembra perfetto Se lei si compra la speedpola Certamente Lei si compra la speedpola Certamente Ok Coprimi Grazie Ehm Vatti comprare Ah no Mai conto Puttana la maestra Aiuto No Vabbè colpa della riga Non dirmi che sei morta anche tu Ok No 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 Certo Certo Nicolas Si era arrabbiato No Certo No Buono Chi è che è l'hosto adesso? Io Io hosto la partita No Non prendetele Mincazzo se le prendete Lieto di non essere morto Prendetela adesso Ne vado a prenderlo Oh ho tornato il pulito E' la mia occasione Via via Good bye Ehm 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 Un po' Ma una volta Troppi zombie Ehm 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 buongiorno dai, però non si ripara c'è la cassa, c'è la cassa no, non c'è la cassa scendiamo, facciamoci un giretto no, oh, oh mi sa che la partita termina qui la partita non è ancora terminata ok finirà apriamo sì, ma perché siamo entrati? eh, io non ce l'ho la turbina ora qui il comando io Diego Cristo mh, no, è andato... vabbè vabbè era una partitina giusto cos'è per far passare il tempo puttana il ping e la stavo stambi credo comunque con questo è tutto lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e al prossimo no non voglio più giocare al prossimo video ciao a tutti